Forte però Ennio Doris, eh? Cioè è un personaggio da Italia Land. Ennio Doris sono dei personaggi di Italia Land che sono famosi in tutto il mondo, no? Prendi Sergio Marchionne. Sergio Marchionne questa settimana al Time gli ha dedicato la copertina, lo ha definito star dell'auto. La Fiat è come la Disney, pensateci, eh? Svorna personaggi incredibili, guarda. Anzi, diciamo la verità, la Fiat nell'inventarsi personaggi ha molta più fantasia. Guarda, va detto. Il vecchio Walt è riuscito a immaginare topi che parlano, paperi che fanno torte di mele, elefanti che volano, ma agnelli che si fanno dare 200 miliardi dallo Stato, no. Fin lì non c'era arrivato nemmeno il vecchio Walt. Pensa all'avvocato Agnelli che lungimiranza che avevano. Quando i cinesi negli anni Ottanta a un certo punto dicono alla Fiat perché non venite da noi e ci portate le vostre auto? L'avvocato ha risposto, ma cosa portiamo a fare le auto in Cina che non ci avete neanche le strade? Ma pensa che lungimiranza e i vertici Fiat. Hai presente cos'è oggi il mercato cinese dell'auto, no? Sono 100 milioni di auto e la Fiat oggi è al 2% del mercato cinese. Pensa che visione del futuro che avevano i vertici della Fiat. Ci mettevi il mago Thelma, girava due tarocchi, magari usciva a Cina. Cioè, capito? C'aveva più probabilità a un hotel. E Romiti, mi fate vedere Romiti, per favore? Eh, il grande Cesarone. Ragazzi, Romiti nel 1998 lascia la Fiat con una buona uscita di 101 milioni di euro. 60 milioni di liquidazione e una quarantina di milioni per il patto di non concorrenza. Avevano paura che andasse a esportare in giro la tecnologia della Tipo. Non porterai mica la Tipo alla Mercedes, eh? C'avevo questa mezza idea, vaffanculo. Ma no, dagli un po' 200 miliardi, ma stai scherzando, ragazzi? No, ma scusa, mi porti la sedia, mi portate, perché oggi c'è Marchionne. Marchionne non chiede più soldi allo Stato, a quello italiano no, perché intanto gli dà quello americano, per cui...